Nei primi anni 80 diventa pugile professionista. Nei primi anni 90, grazie alla sua somiglianza all'attore Marlon Brando, viene scelto per sfilare a Milano per gli stilisti più importanti. Nel 1995 prende parte allo spot pubblicitario della Moschino. Precisamente interpreta Popeye nella campagna Moschino Cipendo Sci che ne diventa anche testimonial per l'underwear. Nel 1997 decide di studiare per seguire la sua passione per il cinema. Frequentando i corsi di recitazione presso il Teatro Blu di Reti da Beatrice Bracco e partecipando al suo primo film, Elvis e Marilyn di Armando Manni. Seguono subito altri film e nel 2000 è sul set internazionale con il film Il Mandolino del Capitano. Corelli a fianco di Nicolà Cage e Penelope Cruz per la regia di John Madden. Durante gli stessi anni partecipa a diversi lavori televisive e serie televisive tra i quali anni sessanta. Casa di Anello, Don Luca, l'ispettore con gli andro e crimini.